bella a tutti ragazzi qui Agamela ed oggi siamo qui in un nuovo video oggi ragazzi terzo tutorial completi mondati prima di tutto dobbiamo andare in un negozio qualsiasi di vestiti e una volta qua giù andiamo ad aprire il nostro mod menu ovvero l'app intensive andiamo ad aprire player option model changer component changer e qua giù abbiamo possiamo modificare tutto tutto davvero ragazzi possiamo farci che ne so possiamo fare i cappelli questo qui cappelli tutti unici occhialini popo fieri un auricolare davvero è fantastico è fantastico ragazzi ce ne sono tantissimi da fare possiamo combinare i cappelli con maschere davvero fantastico questo editor ora ne faccio uno così al volo ci mettiamo invisibili anche le gambe vai no niente paracadute le scarpe ci mettiamo queste invisibili quindi niente torso due ci mettiamo cosa ci mettiamo fai un qualcosa ci mettiamo questa maglietta una volta una volta fatto il nostro completino moddato tutto come vedete qua giù bisognerà andare dalla connessa e fare troviamo i completi una volta qui premiamo quadrato ragazzi salviamo questo completo gli diamo un nome che ne so ora red insomma e finito semplice trovate tutti i passaggi qua sotto in descrizione e ragazzi più avanti vi porterò ora altri mod menu questi qui sono davvero semplici di tutorial semplici 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 lasciate un bel mi piace e i procedimenti li trovate tutti qua sotto in descrizione il mod menu che ho utilizzato è l'app intensive ve lo ripeto e ragazzi lasciate un bel like da gemella tutto ci vediamo nel prossimo video bella un saluto